ciao a tutti fringuelli quante volte avrò sentito dire mi fanno male le gambe dopo un giro in bicicletta per forza è normale il vostro motore le vostre gambe hanno girato hanno prodotto energia e quindi sono stanche molti credono in questo dolore derivi solo dall'acido lattico ma non è così e oggi cerchiamo di capire perché i dolori che si presentano dopo un'attività sportiva si chiamano doms e questi ce li hanno tutti dal ciclista al lanciatore di coriandolo controvento al tennista al bodybuilder e si presentano 24 48 ore dopo lo sforzo ma possono durare anche fino a sette giorni se la sforzo è stato molto intenso e molto lungo o se non si è praticamente allenati insomma il doms è un dolore muscolare che arriva dopo a insorgenza ritardata e questo dolore non dipende dall'acido lattico ve lo garantisco tanto per farvi capire l'acido lattico è un sottoprodotto del metabolismo anaerobico lattacido e viene attivato per produrre atp in occasione di sforzi intensi l'acido lattico però viene prodotto in quantità limitata anche quando lo sforzo è veramente massimale ed inizia ad accumularsi nei muscoli e nel sangue quando ne viene utilizzato in quantità superiore rispetto alla sua velocità di smaltimento quando l'acido lattico si accumula nel sangue muscolare questo abbassa il ph muscolare delle cellule provocando dolore e la cosiddetta fatica muscolare fino allo spasmo muscolare che viene chiamato normalmente crampo tutto questo acido lattico che è presente nel muscolo però viene in qualche modo riconvertito in glucosio attraverso il fegato utilizzandolo nuovamente come fonte energetica e vi dirò di più più un ciclista in questo caso è allenato e migliore sarà questa capacità di smaltimento e riutilizzo dell'acido lattico grazie a questo processo di smaltimento e recupero l'acido lattico viene convertito viene smaltito diciamo così al massimo nelle due ore successive all'attività fisica quindi detto questo è chiaro che i dolori muscolari che si presentano 24 48 ore dopo e che possono essere presenti fino a sette giorni dopo l'attività fisica non sono per niente derivabili dall'accumulo di acido lattico in sostanza il DOMS è una micro lesione del tessuto muscolare e connettivo che avviene durante l'attività fisica e questa micro lesione ha bisogno di qualche giorno per ripararsi e ecco appunto il dolore per essere proprio precisi i DOMS non derivano dai micro traumi del tessuto muscolare connettivo ma dal conseguente stato infiammatorio che porta alla formazione di prodotti di scarto del metabolismo che vanno in questo modo a sovrecitare le terminazioni nervose insomma è un po più complicato del classico o l'acido lattico nelle gambe ci sono anche molte ricerie su come si possa intervenire sul DOMS beh diciamo che l'unico modo per intervenire sul DOMS è quello di abituare il nostro corpo a questo tipo di sforzo e per farlo dobbiamo allenarci bene e con regolarità quindi non ci sono in realtà cure per il DOMS ma semmai prevenire il DOMS con allenamenti regolari ovviamente si possono allenare questi dolori attraverso un massaggio applicato da un professionista alle nostre gambe il quale in qualche modo rigenera e ripristina più velocemente tutto il tessuto muscolare ok ragazzi per oggi direi che è tutto io riparto in bicicletta altrimenti ve lo giuro congelo noi ci vediamo come sempre al prossimo video buon allenamento alla prossima ciao